Bisogna seguire un corso, bisogna sostenere un esame, dopodiché una volta passato l'esame si richiede in prefettura il decreto da guardia zoofile. È stato durante la cena rigorosamente vegana di beneficenza organizzata da Leida, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Arezzo, che sono state presentate le nuove guardie zoofile, otto in tutto quelle formate nell'aretino. Siamo già otto che hanno passato il corso e a breve iniziamo un ulteriore corso che lo facciamo qui ad Arezzo. Ci sono già altri dieci iscritti e quindi aspettiamo anche altre persone che se sono interessate ad iscriversi al corso ben volentieri. Quindi devono andare sul sito Leida oppure su Facebook, scusate, Leida-Arezzo e lì ci potete contattare tranquillamente e noi vi diamo tutte le risposte del caso. Il corso non è difficile se si studia e se si entra nel mood. La vita della guardia zoofile è una vita di studio, è una vita nella quale ci si informa in continuazione perché le leggi cambiano, perché ci sono sempre nuove sentenze, ci sono sempre nuovi fatti e quindi bisogna comunque capire che bisogna studiare, non bisogna mai rimanere indietro e bisogna stare al passo con le nuove leggi e i nuovi regolamenti. Quindi non è difficile, bisogna avere la passione. Quando uno ha la passione non è mai difficile.